lo cataloghiamo tra gli errori gravi o lo pesca prima il fuorigioco o non lo pesca più accanto a tre seghe chi metto fanno tutti e due quindi è un fenomeno è un essere extra extra del resto grande roma laudiamo il suo talento che è immenso se mi ascoltano le tifosi juventini non posso dire che la roma va a vincere quindi ero bis estasiato allora non dimenticate vi aspetto sabato con controcampo alle 22 30 non mancate